Buona domenica, buona domenica a tutti amici del canale, eccomi qua, un caro saluto, un caro abbraccio a tutti voi, ultima domenica senza Milan, ultima domenica senza giocare, finalmente siamo al giro di Boa perché nel prossimo weekend il Milan ritorna in campo, in realtà torna in campo sabato, quindi la settimana è ancora più corta di attesa da oggi a sabato prossimo, però è l'ultimo weekend senza giocare, poi fino a fine maggio, tra maggio e aprile ci saranno tante partite, speriamo sempre di più perché vuol dire che il Milan giocherà anche in settimana in Europa League, poi analizzeremo anche il calendario del Milan perché comunque ci sono partite facili, partite difficili, partite molto complicate, c'è il derby, c'è la Juve, la Fiorentina fuori casa, ma c'è anche la Salernità nel Lecce, insomma partite che il Milan dovrebbe provare a vincere con più facilità, però quando c'è la sosta per le nazionali c'è sempre apprensione, c'è sempre un po' il timore che qualcosa possa accadere ai giocatori del Milan prestati alle nazionali, è un momento dell'anno che personalmente non amo, usando tra l'altro un termine molto soft, e oltre alle buone notizie come per esempio il gol di Reinders con l'Olanda, il bel gol di Leao con il Portogallo, ci sono anche le brutte notizie come gli infortuni. Abbiamo detto che per Benasser non c'è nulla di grave, ma potrebbe non essere forse nulla di grave neanche per Kier, che ieri si è fermato per un problema muscolare, ha sentito un problema dietro la coscia, è stato sostituito durante la partita contro la Danimarca, e speriamo che per Kier non sia nulla di grave, perché il Milan già non avrà Kalulu e nella gara d'andata contro la Roma non avrà nemmeno Tomori, quindi non avere Kier, Kalulu e Tomori vorrebbe dire praticamente rigettare il Milan nell'emergenza, soprattutto nella gara d'andata contro la Roma di Europa League, dove è squalificato Ficcaio Tomori. Però da quello che filtra dal ritiro della Danimarca non dovrebbe essere nulla di serio, e abbiamo anche le dichiarazioni di Kier stesso, che spiega la dinamica dell'infortunio, e anche del CT della Danimarca. Tra l'altro, secondo quello che filtra sempre dal ritiro della Danimarca, il giocatore dovrebbe rimanere in nazionale e non tornare a Milanello, questo già fa capire che l'infortunio non è gravissimo, perché altrimenti sarebbe stato poi rimandato a casa. Allora, partiamo con le parole del CT della Danimarca, che ieri si era affrontato la Svizzera e ha pareggiato per 0-0 contro la Svizzera. Allora, il commissario tecnico dice, Kier ha sentito qualcosa nella parte posteriore della coscia, non penso che sia qualcosa di grave, ma non sappiamo ancora esattamente, se ci fosse il minimo problema non giocherà la prossima partita contro le Isole Faroer, la gara è in programma per martedì, quindi se la partita si gioca martedì e Kier vuole rimanere in nazionale, già rivedremo Kier mercoledì, praticamente a tre giorni dalla gara contro la Fiorentina, non è che tra l'altro questo sia il massimo. E' intervenuto anche lo stesso Kier sull'infortunio e ha detto, allora eccole qua le parole, dice, spero che non sia grave, ho sentito un po' di fastidio e volevo solo andare sul sicuro. Siamo a stagione inoltrata, quindi cerchiamo anche di pensare un po' avanti e preferiamo non correre rischi. Forse è l'atteggiamento giusto, caro Simon, visto che comunque servita, serve anche al Milan. Poi dice, non mi aspetto che sia assolutamente qualcosa di brutto, e queste sono delle parole rassicuranti da parte del centrale difensivo del Milan. Se fosse stata una partita di qualificazione o addirittura dell'europeo, non sarei uscito dal campo, dice Kier. Se resterò in ritiro con la Danimarca? Penso di sì, ma adesso dobbiamo vedere come si evolverà la situazione. Questa è stata la mia prima sensazione, non credo che sia qualcosa di grave. Quindi rassicuranti le parole di Simon Kier. Passiamo a parlare anche di calciomercato, passiamo a parlare anche di diritti di riscatto, contro riscatto, di giocatori riscattati, perché sarà un'estate, quella del Milan, in cui il Milan può incassare tanti soldi dai giocatori mandati in prestito. Questo vuol dire che la dirigenza, da questo punto di vista, ha lavorato abbastanza bene l'estate scorsa, se addirittura potrà arrivare a 50 milioni di euro di incassi dai giocatori mandati in prestito. Andiamo nello specifico, nel dettaglio, ad analizzare la situazione, perché se dovessero arrivare a 50 milioni, sono comunque importanti, sommati a quelli della Champions. Il Milan arriverebbe quasi ad un budget iniziale, senza cessioni dei big, da 90-100 milioni. E comunque si riesce a fare un buon mercato, almeno 3 acquisti, 2-3 acquisti di spessore li puoi anche fare. Quindi, partiamo da Daniel Maldini. Abbiamo detto qualche giorno fa che nell'occasione, nella partita tra Venezuela e Italia, nella nazionale, a Miami, c'era Paolo Maldini con Beppe Riso, che è il procuratore del figlio. Si è parlato della possibilità che Daniel possa rimanere a Monza, perché lui vuole rimanere, si trova bene, ha segnato anche un bellissimo gol, si sta ambientando bene. Il giocatore era stato ceduto con la formula del prestito con diritto di riscatto a favore del Monza e un contro-riscatto a favore del Milan. Se il Monza dovesse riscattarlo e il Milan sarebbe d'accordo, il Milan incasserebbe 5 milioni di euro. E si parte da questi 5 milioni. Altri 4 arriveranno da Krunic, che ha l'obbligo di riscatto con il Fenerbahce. Arriviamo a 9. 2 milioni e mezzo, quindi 2 milioni e mezzo, arrivano invece dal riscatto di Messias dal Genoa, già scattati, è già scattata l'opzione perché il giocatore ha soddisfatto le richieste per il riscatto e tutte le condizioni presenti nel contratto, quindi i 2 milioni e mezzo sono già sicuri. Poi abbiamo due importanti possibili riscatti. Qui si sale, abbiamo Salemecher al Bologna. Se il giocatore dovesse essere riscattato dal Bologna, il Milan incasserebbe 12 milioni di euro, quindi si sale parecchio. E infine abbiamo lui, il famoso CDK, Schalde Ketelare. Tema di discussione dei tifosi, chi lo rimpiange, chi lo rivolrebbe, chi dice ma come ha fatto il Milan a mandarlo in prestito, c'è da dire che dopo l'esploi di qualche settimana fa, ultimamente non si sta facendo notare più di tanto, anche nella partita di campionato contro il Milan a San Siro, è stato un po' un fantasma in campo. Ecco, probabilmente è un giocatore che soffre un po' la pressione quando il gioco si fa duro, quando si alza il livello, quando si alza l'asticella della pressione, tende un po' a nascondersi. È un po' il suo difetto caratteriale, però, comunque, se l'Atalanta riscattasse dei Ketelare, ce lo auguriamo, il Milan incasserebbe 22 milioni di base fissa, più altri 4 di bonus, quindi siamo a 26 totali. Vanno aggiunti i 12 di Salem e Kerr, i 4 di Kronic, i 5 di Maldini e i 2,5 di Messias, si arriva ad un budget di 50 milioni di euro, ad un totale di riscatto da 50 milioni di euro. Attenzione, questa cifra si raggiunge solo se tutti e cinque i giocatori dovessero poi essere riscattati dalle rispettive squadre. Due sono già certi, Kronic e Messias. Maldini è molto probabile, De Ketelare credo che sia abbastanza probabile, perché comunque l'Atalanta per quella cifra lì lo vorrebbe trattenere, probabilmente su Salem e Kerr bisogna un attimo capire le intenzioni del Bologna. 12 milioni non sono pochissimi, comunque lui ha fatto una buona stagione, se il Bologna va in Champions attraverso anche il quinto posto che si può sbloccare in Serie A, comunque ha il budget per riuscire a fare questa operazione e addirittura potrebbe essere poi inserito in eventuale acquisto di Zirk Zee, sappiamo che è uno dei primissimi obiettivi di mercato del Milan. Quindi direi che 50 milioni dai riscatti, altri 40-50 dalla Champions, il Milan riesce ad arrivare all'estate con una buona fetta, una buona dose di denaro per migliorare la squadra attraverso almeno tre acquisti, attaccante, centrocampista e difensore. Quindi si parte bene, si parte bene da questo punto di vista, poi bisogna capire anche quali scelte verranno fatte sul mercato per alzare la qualità della rosa. Io vi ringrazio, vi saluto e ci vediamo dopo con un altro contributo video. Grazie a tutti, ciao!